Maestro. Maestro Zagari, Adolfo Zagari. La soprano, grandissima soprano, Maria Adele Misitano. Ecco qui. Abbiamo fatto il concerto stasera. Siamo soddisfatti, c'era un bell'afflusso di gente, inaspettatamente. In questo paese bellino, come si chiama? Titi. Titi. Placani, sopra Placani. Sì, sì, bellissimo. 350 abitati. E devo dire che ce n'erano, non aspettavamo che ci fosse tanta gente, non ce l'aspettavamo. Abbiamo fatto un bel concerto di brani natalizi di tutto il mondo. Il pubblico, l'assemblea ha partecipato con noi. Ha partecipato parecchio, sì. Cantava insieme a noi pure. Sì, sì. Abbiamo chiamato sul palco per una bimba che ha voluto cantare e uscire dall'esterno. Insomma, è stato gradevole. Siamo soddisfatti di esservi piaciuti. Tanto che il sindaco ci ha detto dovete ritornare. Allora noi in estate. Hanno già le date. A fine agosto, quando ci sarà la festa qui, noi saremo qui a fare dei concerti all'aperto. All'aperto di musica napoletana, lo possiamo dire. Napoletana, soprattutto, sì, sì. E ringraziamo il sindaco e il signor Giovanni Fiore che ci ha ingaggiato tramite il sindaco, ovviamente, per questo spettacolo che a mio avviso è piaciuto parecchio. Buonasera a tutti. Innanzitutto volevamo ringraziare la metropolitana di Reggio Calabria che ci ha onorato di un concerto lirico qui a Titi. Poi volevamo ringraziare il sindaco Antonio Condemi, il parroco Don Gianluca per averci permesso tutto ciò. Grazie Don Gianluca. Poi l'oratorio Aspi insieme per vincere. Insomma, poi tutto il comitato festa perché ci ha permesso di fare, diciamo, una bella festa per i bambini con l'arrivo di Babbo Natale, con i dolci vari che abbiamo venduto per la raccolta per la chiesa, per la Madonnina. Abbiamo fatto, diciamo, un po' di dolci tipici.